Buone salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove sono un po' più allegra dai, ho il suo cerchietto messo... allora, voglio fare questo intro al video per fare gli auguri al mio ragazzo che oggi compie la mia stessa età, che bello, siamo buoni, siamo coetanei, lo so che tu... a te non piace però a me sì, quindi abbiamo tutti e due 27 anni, invece per lì non vogliono collaborare, con pazienza... dai... oh sì, siamo belli prima, vabbè... comunque, auguri e amore, voglio farti un intro appunto prima di mostrare il video, e niente, sono contenta che siamo coetanei adesso appunto, sapetevi se il video ci muove un po' ma sono sul letto, e niente, spero che... visto che adesso forse in Piemonte riapriranno qualcosa, spero che riusciremo a fare altre belle cose insieme, e niente, ti auguro un felice compleanno, e... data la situazione naturale, spero che lo festeggiungiamo un po' insieme, e niente, spero che il mio regalo ti possa piacere, anche come anche questo video, niente, ora vi lascio a video perché non voglio che il video dure i trent'anni, e niente, tanti auguri di Poma Plana... tanti auguri a te... 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 tanti auguri Tanti auguri a te. 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 Tanti auguri a te.